Noi stiamo preparando, è una partita molto importante per noi, anche per le stagioni e tutto. Vogliamo giocare Champions, quindi questa è una partita che vogliamo vincere a tutto costo. Sono molto contento con le cose come sta andando, ritero che abbiamo fatto qui in USA, poi il lavoro di stamattina, ieri, tutto. Sta andando molto bene, sono contento. Sto facendo tutto il possibile per essere 100%. Adesso secondo me sì, sono 100%, però dipende dalla partita, quindi devo giocare un po' di partite e così, però in mio momento sono già pronto per fare grandi stagioni.